Siamo storie che racconterai domani Siamo storie è il titolo di questa commedia musicale Storie come quella di Matteo, un adolescente come tanti Cresciuto con un padre assente e una madre fragile e incapace di mettere i figli al primo posto Poi c'è Iris, la sorella minore, spettatrice apparente delle vicende familiari Chiara, un'assistente sociale ed insieme a lei una psicologa Un operatore di strada Una preside, un professore, un'amica Il gruppo dei devianti, figli come Matteo, non visti, lasciati soli E soprattutto c'è Alma, una donna come tante, un'affidataria Capace di accogliere e concedere un tempo per ricostruire un dialogo Una vincente storia, in musica e parole inedita Per raccontare uno spaccato di vita tra adolescenza Il lavoro sociale Che accompagnerà Matteo alla scoperta di una strada diversa Dal bianco e nero, ai colori della speranza nel futuro Siamo storie, il nuovo musical di Emiliano D'Ambrosio Portato in scena dalla compagnia teatrale Tutti e Nessuno Una band dal vivo, cantanti, attori e ballerini Saranno di nuovo protagonisti di un viaggio corale da fare insieme Saranno di nuovo Saranno di nuovo Saranno di nuovo Grazie a tutti.